Ciao, questo è un video velocissimo per mostrarvi delle creazioni che spongo tra qualche giorno in un mercatino natalizio. Ho fatto diverse cose, purtroppo per una questione di luce non riesco a mostrarvele tutte perché ho già provato e vengono delle riprese abbastanza scure, però non posso far altro che girare i video alla sera visto che lavoro tutto il giorno. E poi sabato, iniziando questa esposizione, non riesco a girare prima questo video. Allora, inizio subito mostrandovi una serie di orecchini e poi dei ciondoli che ho fatto. Allora, questi sono gli orecchini, tutto è un'inquadratura globale. Sono degli orecchini, questi qui, con dei rivoli con retropiatto di Swarovski con due buchi sia sopra che sotto che permettono appunto con degli anellini di agganciarli o a delle monachelle o a delle gocce piuttosto che ad un altro rivoli simile o di colore oppure di dimensione. Ecco, io ho giocato un po' con i colori, come in questo caso, e con le dimensioni in tutti i due paio di orecchini. Allora, ho usato monachella in argento, oppla, questi sono dei appunto rivoli, il colore è Crystal Luminous Green, è un colore davvero bello, una colorazione uscita qualche mese fa della Puglielo Swarovski, ecco. E niente, ecco, purtroppo non ho neanche un espositore di orecchini qui, cioè, sono proprio conciatissima. Però ho già imballato tutto, per cui, niente, insomma, spero che vi accontentiate e almeno appreziate il fatto che almeno in qualche modo ve li ho mostrati. Quindi, questi qui, è un colore veramente, veramente bello. Quindi, questi sono degli orecchini abbastanza lunghi, ma luminosissimi, veramente, veramente luminosi. E niente, poi questi sono uguali, solo che ho giocato con due contrasti. Questo qua è il nuovo... A me sembra un arancione, anche se il nome c'è scritto pink, adesso non lo ricordo bene, comunque la nuova colorazione uscita insieme al light turquoise dello Swarovski. E ho giocato, appunto, con questo colore qua, è un ametista, adesso non ricordo bene, sempre Swarovski, che è un classico. Ho completato questi orecchini mettendo questa pallina in argento, come sempre la monachella in argento. Quindi sono degli orecchini molto luminosi, anche in questo caso, ma i miei preferiti rimangono comunque questi verdi. Che se metto la mano vicino, forse riuscite a vedere bene il colore, più o meno, insomma. Comunque, veramente ottimo, cioè ottimo, veramente bello come, appunto, tono di verde. Questo qua ve lo consiglio, se vi capita, prendetelo, perché è veramente bello. Poi ho realizzato diverso tempo fa delle carte da gioco, che si trova lo schema gratuitamente su internet in diversi siti. Ho fatto un asso con il bianco e il nero, e li ho sempre accantonati in un angolino, finché, finalmente, mi sono decisa a montarli con questi distanziali ad onda, tutti sberluccicosi, infatti per quello che voi non riuscite a vederli bene, perché comunque sono tutti martellati e sono molto luminosi, mettendo come monachella questa qua con degli strass davanti. L'orecchino rimane, al lobo, un po' sbilenco, nel senso, un po' storto, ma con i capelli comunque indossato, veramente molto, molto bello. Quindi, invece di lasciare queste carte che avevo realizzato lì a far nulla, ho deciso, finalmente, di montarli, di proporli. Speriamo in bene, che piacciono, insomma. Poi ho realizzato un classico, nel periodo, penso, natalizio, che sono gli angioletti. Voi li vedete qua, bianchi e sui toni dell'azzurro, ma in verità li ho fatti anche rosa, li ho fatti copper, li ho fatti su un bordeaux, insomma, li ho fatti di diversi colori. Io, però, ne ho tirati fuori due, per farvi vedere i classici bianchi e i classici colorati, dove ho messo la testolina un po' più scura rispetto alla parte sotto, che è una goccia in Swarovski. Queste ali me le aveva regalate Emanuela, nello swap, sì, nello swap estivo. E veramente, sono molto, molto belli e sono proprio, secondo me, dei pensierini da fare per Natale, molto, ma molto caratteristici. Ecco, quindi, questa qui è la parte... Eccomi, allora, vi stavo dicendo che era la parte orecchini, purtroppo ho dovuto interrompere il video perché ho ricevuto una telefonata. E niente, passiamo oltre. Allora, ho realizzato nuovamente delle croci celtiche, filigrane a forma di croce celtica, che avevo realizzato diverso tempo fa, una come prova, ed avevo pensato di regalarla a Jessica, che è una ragazza veramente unica, che gestisce un gruppo per linee dal mondo su Facebook, e volevo farle appunto un pensierino perché è veramente eccezionale, secondo me. Per cui, avevo queste filigrane prese da pietra a maggio, e mi era venuta l'idea di incastonare un rivoli da 14, cucirlo alla base, e poi decorarlo con degli svaroschi intorno. A Jessica, appunto, le è piaciuto molto, infatti ha fatto diverse croci, appunto, prendendo l'idea da quella che avevo realizzato per lei, e avendo ancora in casa io delle basi, quindi l'ultimo argento e una oro, ho deciso di realizzarne almeno un paio per appunto questo mercatino. Quindi, ve le mostro, questa è una appunto croce celtica con un rivoli sull'azzurro, adesso non ricordo bene il colore esatto, con degli svaroschi da 3 mm, colore bianco-white. Diciamo che non ne avevo proprio svaroschi del colore del cabochon, quindi ho voluto spezzare un attimo, molto carina, però, devo essere sincera, tra le due mi piace questa qua, color oro, strano ma vero perché, diciamo che l'oro non è un colore che generalmente preferisco, con questo rivoli incastonato su un grigio, e questi svaroschi neri, che hanno dei riflessi comunque leggermente dorati, e con questi picots, quindi questa è davvero molto molto bella. Queste croci sono molto, ma molto luminose, ho deciso di realizzarle con una semplice catenella doppia, adesso se il collo collabora, ve ne mostro almeno una. addosso, addosso, sul collo. Allora, quindi questa è la croce addosso appunto al collo, forse è meglio che faccio contrasto mettendo quella color oro, e appunto come vedete, io ho usato appunto questa catena davvero, davvero molto semplice e sottile, che dà risalto alla filigrana, e a quello che sbirluccica in mezzo. Quindi vabbè, insomma, purtroppo il buio non si fa notare comunque lo splendore di questi svaroschi incastonati, quindi vabbè, accontentiamoci. Vediamo, quindi tutto questo qui vi ho fatto vedere, al volo magari vi faccio vedere una collana con delle palline in feltro, che ho realizzato, sempre per il mercatino, con questi cibollotti color white, che avevo preso a Roma, e queste palline piccole in feltro grigie. La stessa l'ho fatta anche in rosso, è una collana leggermente a giro collo, ma proprio leggermente, e secondo me indosso soprattutto questo colore, che è uno dei miei colori preferiti, che è lo scuro, è davvero molto graziosa, quindi mi è piaciuta molto, e l'ho realizzata anche uguale sui colori, del bianco-rosso, visto che comunque arriva le feste, arriva il periodo natalizio, ho deciso di farla anche su, appunto, questo colore qua. Niente, poi ce n'è anche altre, però veramente, visto la luce, e avete visto appunto come sono riuscita a farvi vedere, le collane sul punto sull'espositore, è meglio che termino qua, perché non riuscirei comunque, a farvi vedere tutto per bene, quindi preferisco farvi vedere, quello che potete più o meno apprezzare, anche voi, da un video, insomma, da una videocamera. Niente, con questo vi saluto, vi mando un bacio, sto pensando a dei tutorial, anche davvero molto semplici, e niente, prossimamente, quindi, pubblicherò qualcosa. Per ora vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!